Un saluto a tutti e il mio consueto benvenuto a questa nuova puntata di Il Meglio di Parole, parole, parole. Terzo giovedì di luglio, terzo appuntamento. Dopo distopia e dopo propaganda, oggi vorrei rivedere insieme a voi la puntata in cui si parlava di psicopatia, ma non solo, psicopatia abbinata a un'altra parola che era potere, psicopatia e potere. Rivediamola insieme. Ah, qualcuno di voi che magari non mi segue dall'inizio mi ha chiesto di Gelsomino. No, Gelsomino purtroppo non c'è più, ha iniziato le prime puntate con l'angolo di Gelsomino in cui era presente anche fisicamente, poi ahimè è venuto il suo appuntamento con il ponte dell'arcobaleno e ci ha lasciato, ma io ho voluto sempre mantenere la sua presenza anche se virtuale in omaggio a lui sostituendo l'angolo di con l'aforisma di Gelsomino. E in queste prime puntate è fatale che sia ritornato a proporsi in presenza anche se è solo un ricordo, quindi ci sarà, continuerà ad esserci. Ma torniamo alla nostra puntata, al nostro rivediamola insieme con psicopatia e potere. Ciao! La parola di oggi è... come? Non la devo dire? Eh vabbè ma è scritta sotto in descrizione. Meglio mandare prima il filmato. Ok, mandiamo prima il filmato e ci vediamo dopo. Siediti Dexter, ti stai agitando. Sto solo cercando di capire. Fai fatica ad ammettere di avere torto, ma va bene, la gente come te ha un bisogno innato di avere ragione, di sentirsi superiore. Continui a parlare di me come se appartenessi a una specie diversa, come se fossi meno umano. Al contrario. Hai letto qualcuno dei miei libri? Non mi è ancora capitato. Se l'avessi fatto sapresti che ritengo che gli psicopatici non sono un errore della natura, sono un dono. Un dono? Sono lupi alfa che hanno aiutato gli umani a sopravvivere abbastanza da civilizzarsi. Una indispensabile fascia demografica. Lo credi davvero? Sapevi che tratti psicopatici sono riscontrabili in famosi amministratori delegati, nei politici più apprezzati? Senza gli psicopatici l'umanità oggi non esisterebbe. Ma a causa loro molte persone non esistono più. Non tutti i mali. La scena che abbiamo appena visto è tratta dall'ottava stagione di Dexter, una fortunatissima e seguitissima serie tv, il cui protagonista è Michael C. Hall, qui affiancato da Charlotte Rampling. Dexter Morgan. Dexter Morgan è un tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami che però nasconde un grosso segreto, la sua vera natura di serial killer, uno psicopatico che uccide in maniera seriale un'innumerevole quantità di individui in modo cruento e deferato. Però seguendo un rigido codice morale, potremmo definirlo così, lui uccide soltanto quei criminali che sono riusciti a sfuggire alla giustizia. In questa scena parla con la psicologa Evelyn Vogel, Charlotte Rampling, che ha modellato il carattere di Dexter quando era bambino, a sua insaputa naturalmente, tanto è vero che lui non la riconosce. Ha costruito, diciamo così, questo suo codice morale per giustificare ai suoi occhi l'incredibile quantità di omicidi. Io uccido sì, ma soltanto quei criminali che l'hanno fatta franca con la giustizia. Questo ha fatto sì che la serie sia stata molto criticata perché è riuscita a sdoganare, a far passare come eroe un criminale. Chiaramente il pubblico parteggia per lui, non vorrebbe mai che fosse scoperto e questo chiaramente, sì, se viene scoperto finisce la serie tv, però diciamo che è su una linea sottile di confine tra il lecito e il non lecito. A questo punto posso svelarvi, è il segreto di Pulcinella, posso svelarvi la parola di oggi che è psicopatia, il cui aggettivo è psicopatico. Il termine ha origini molto antiche, sembra infatti che per la prima volta sia stato usato da Teofrasto addirittura, che era allievo di Aristotele. Il termine è formato da due parole greche, psiche, mente e pathos, sofferenza, dolore, quindi sofferenza della mente. Nel 1801 lo psichiatra francese Philippe Pinel lo descrisse come sindrome da comportamenti devianti, crudeli e privi di capacità di giudizio, caratteristici di pazienti con gravi disturbi mentali. Li definisce folli senza delirio, che pur comprendendo la loro follia non sono in grado di interromperla, non sono in grado di porre fine alle crudeli azioni che la caratterizzano. Vediamo a questo punto le caratteristiche comuni che caratterizzano gli psicopatici. Leggo. Individuo per lo più maschio che, per usare un eufemismo, non sta alle regole del vivere civile, che ricerca vantaggi personali anche a discapito e danno degli altri. Antisociale, disonesto, manipolativo, per profitto o per piacere. Dall'atteggiamento irritabile e aggressivo manca assolutamente di empatia e di connessione emotiva con gli altri. Narcisista patologico fonda i suoi rapporti sull'antagonismo, sulle situazioni di dominanza e di controllo. Manca di autenticità e inventa su di sé elementi autobiografici con lo scopo di ottenere più impatto positivo sugli interlocutori. Solitamente ben considerato in società, occupa molto spesso ruoli di primo piano. Tenendo presente tutto questo, tornerei sulle battute di Evelyn Vogel, psicologa. Sapevi che tratti psicopatici sono riscontrabili in famosi amministratori delegati, nei politici più apprezzati? Senza gli psicopatici l'umanità oggi non esisterebbe. Ma a causa loro molte persone non esistono più. Non tutti i mali. Beh, sicuramente è interessante la posizione e le considerazioni di questa psicologa che considera positiva, se non addirittura essenziale, la categoria degli psicopatici addirittura per lo sviluppo dell'umanità. Però c'è da tenere presente che lei lavora nella costruzione di questo tipo di individui. E ci sono anche delle ragioni personali che non vi voglio anticiparvi, stavo per dire spoilerare, ma voglio dire è meglio usare termini italiani, che non voglio anticiparvi se qualcuno volesse recuperare la serie. A questo riguardo mi focalizzerei sulla battuta della Vogel che dice, me la sono scritta, sapevi che tratti psicopatici sono riscontrabili in famosi amministratori delegati e nei politici più apprezzati? La frase che ha appena detto a Dexter, che in qualche modo si meraviglia anche. Secondo un importante studio di uno psicologo inglese, Kevin Datton, le professioni con un maggior numero di psicopatici sono, vi leggo l'elenco, CEO, cioè amministratori delegati, appunto come dice la Vogel, avvocati, personaggi dei media, tv e radio, chirurghi, giornalisti, agenti di polizia e politici. E come possiamo vedere da questo elenco non sempre lo psicopatico è un serial killer, anzi. Se consideriamo bene questo elenco possiamo concludere in accordo con la Vogel che determinate caratteristiche in certi contesti possono anche essere utili, utili naturalmente per loro e per il ruolo che hanno, che ricoprono, certamente non per la comunità. Più che plausibile quindi che vi siano degli psicopatici di successo e che queste personalità possano ricoprire anche ruoli importanti, ruoli di prestigio. In effetti se immaginiamo un mondo di fantasia dove al governo ci siano individui collocati lì da una certa elite di potere possiamo facilmente capire come questo sia possibile. Oddio, ho detto in un mondo di fantasia. E a come diventi fattore indispensabile, condizione essenziale, appunto la caratteristica dello psicopatico per portare a termine progetti per cui è indispensabile essere freddi, manipolatori, egocentrici, narcisisti, totalmente indifferenti alle sofferenze altrui che provino disprezzo per il prossimo sottomesso, che non provino alcun senso di colpa per le loro azioni autoconsiderate giuste. Oddio, ma ho veramente detto in un mondo di fantasia. E se la psicopatia sta al potere, se i governi sono costituiti da persone, contratti fortemente psicopatici, possiamo parlare di patocrazia. Patocrazia, infatti, è un concetto sviluppato da uno psicologo polacco dal nome Andriei Lobacensky. Patocrazia, definizione, leggo. Un sistema di governo in cui individui con disturbi della personalità, soprattutto psicopatia, occupano posizioni di potere e influenza. Il risultato è un sistema totalitario caratterizzato da un governo rivolto contro il proprio popolo. Oddio, ho detto proprio mondo di fantasia. E chiuderei qui. No, anzi, no, 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 finirei col consigliarvi un libro Psicopatici al potere. Viaggio nel cuore oscuro dell'ambizione di John Ronson. E leggo. John Ronson, l'autore, è un giornalista che intraprende questo viaggio non in maniera scientifica, e forse proprio è questo il pregio del libro, ma in maniera divulgativa. In questo modo ci aiuta a capire come sia possibile ritrovare tanti psicopatici in persone di cui non avremmo mai sospettato. Persone di carisma che hanno conquistato ruoli di potere. Ma dove finisce il leader senza scrupoli e inizia lo psicopatico criminale? Con questa domanda vi lascerei all'angolo di Gelsomino. A presto. Che naturalmente vi faccio vedere, giusto? Che dici? L'angolo di Gelsomino. Non tutti gli psicopatici sono in prigione. Alcuni sono in Parlamento. Robert D. Hare L'angolo di Gelsomino. Grazie a tutti.